Buongiorno, Noemi, ciao! Stasera quarta vittoria con la Coppa Italia, un antipassi del campionato che tutto sommato è andato molto bene. Sì, abbiamo superato il turno con un turno d'anticipo, abbiamo giocato questa partita tranquille, comunque abbiamo preso qualche punto, siamo entrati in difficoltà ma poi siamo riusciti ad uscirne, quindi siamo tranquille. Ok, sabato comincia il campionato, manca solo una settimana, come vi state preparando a questo evento, il campionato di P1? Bene, adesso abbiamo questi due giorni liberi e poi iniziamo martedì in palestra cercando di essere concentrate e migliorando le cose che in questo momento magari abbiamo più difficoltà a fare. Ecco, già conosci il Messina nel prossimo gesterno di Contraverde? Allora, io sinceramente no, sarà la prima esperienza, la prima volta che gioco nel Gironi D e quindi non conosco le squadre. Quindi meglio perché entrerò in campo con l'idea del che c'è e c'è e sporchiamo tutto lo stesso, quindi questa è la mentalità. Poi vediamo insomma. Ok, ti vuoi presentare al pubblico, dicendo a loro come ti piace giocare, due esperienze passate? Beh, io sono una banda e le mie esperienze passate ho giocato ad alto livello in Serie A1 come libero, arrivo dal San Termo e quindi sono venuta qua per dimostrare, per vedere un po' l'attaccante, voglio fare tanti punti e voglio essere utile alla mia squadra. Quindi insomma, venite numerosi al Palazzetto e vi aspettiamo. Ok, grazie. Grazie a voi, ciao.